Ripartiamo in questa seconda parte di Mattino 6 per sfogliare i quotidiani abruzzesi, ripartiamo con il centro, pagina 11, la pagina che vede questioni regionali, la regione vende all'asta 7 immobili, parte allora la corsa all'affare, il pezzo forte, il centro di formazione di Sulmona, valore oltre mezzo milione di euro, il più economico degli immobili, vale 5 mila euro. In alto intanto i giudici romani salvano le elezioni regionali, è rigettato anche il maxiricorso del centro-sinistra che puntava a togliere alcuni seggi al Movimento 5 Stelle che ora accusa. Questa è pagina 11, a pagina 13 invece trovate aiuti per le famiglie, ecco come ottenerli nel 2020, confermate nella manovra molte agevolazioni per i redditi bassi. Andiamo sulla doppia pagina che apre la città di Pescara, lo studente pestato vertice con prefetto e con il questore, anche la famiglia del ragazzo prenderà parte al comitato sulla sicurezza, ovviamente il tema è quello dedicato alla movita violenta e poi il precedente Dicenso, il presidente Dicenso, il Pescara Basket vicino al 17enne, è un'aggressione inaudita, un ragazzo serissimo, i commercianti del centro che dicono le risse solo a Pescara Vecchia, ma i residenti protestano, urla i schiamazzi ad ogni ora, come vediamo è il comitato tranquillamente battisti, i clienti di Via Piave dicono questo è un posto tranquillo, i controlli ci sono, mentre di Pietrantonio queste le sue dichiarazioni, i programmi di sostegno alle famiglie. In basso, sempre cronaca, rapina in villa, una testimone ha inseguito i banditi, l'aggressione ha liberato Scioli, una donna racconta, sono arrivati su uno scooter nero e ne è sceso solo uno, il più giovane. Cambiamo pagina, rimanendo sempre a Pescara, questa notizia sposa l'uomo che l'ha violentata, poi lo denuncia per nuovi abusi, in tribunale una storia di maltrattamenti in famiglia, alla sbarra un operaio di 57 anni del pescarese, dopo la prima querela le venne risarcita con 20 mila euro dall'uomo, poi le nozze e le accuse bis. Accusate di tentato omicidio, denuncia investita da un'auto pirata, e poi blitz della polizia e dei carabinieri a Rancitelli, gli sfratti non fermano lo spaccio, altri due arresti. Pagina 17, malati in elicottero, piano per il trasporto fino all'ospedale, la regione vuole riattivare l'elisuperficie, ha chiesto il velibera all'Enac, pettinare il Movimento 5 Stelle, già spesi 100 mila euro. E poi questa bella notizia che era anche, faceva parte della prima pagina del centro edizione di Pescara, perché Pescara è la città italiana più green. Riconoscimento dell'Urban Award al comune che ama andare al lavoro sulle due ruote, secondo posto invece a Fiumicino, quindi ci spostiamo nel Lazio, il premio al territorio che ha realizzato 26 chilometri di piste ciclabili, che organizza passeggiate su due ruote, e che corre sulla strada parco fino a Montesilvano. Complimenti dunque alla città di Pescara, in basso scoperta torta ammuffita in vendita nel bar, in asse denunciano un commerciante del centro, terza ispezione in due anni che subisce il locale. A Montesilvano, tassa di soggiorno, non degli albergatori, ma il comune insiste, gli operatori puntano i piedi in vista dell'incontro di domani, l'assessore ci permetterà di dare una svolta al settore, questi sono per il turismo progetti, ma anche, come vedete, polemiche. Intanto Montesilvano finisce su Rai 3 perché il Giove Beach Party finisce su Report. A Città Sant'Angelo, caccia ai fondi, antiallagamenti, il sindaco all'opposizione, stiamo lavorando con la regione per risolvere il problema. In alto, purtroppo, una brutta notizia perché muore a 40 anni la moglie di Alves, Ivan Alves Junior, giocatore di calcio A5, che da qualche anno abita proprio a Montesilvano, Anna Paola Dos Santos era malata da tempo, lascia quattro figli, davvero una tragedia. A Francavilla, la lite al semaforo, il ristoratore aggredito rischia danni permanenti, la rabbia del fratello, non sappiamo quando e in che condizioni, lo rivedremo e intanto l'aggressore è libero, come se 15 giorni fa non fosse successo nulla. Castiglione, OMA, affitto e cessione, adesso si pensa al futuro, dopo il ritorno degli operai per tre mesi, grazie all'esercizio provvisorio, il curatore fallimentare incontra oggi il committente principale, Nuovo Pignone. Questa è l'azienda fallita e allora sulla questione OMA vediamo il servizio della nostra redazione. Nella giornata odierna si sono riaperti i cancelli di tutti gli stabilimenti del gruppo OMA, quindi sia in Abruzzo che in Toscana oggi sono riprese le attività lavorative, nello specifico in Abruzzo in parte sono rientati i lavoratori per ristabilire la normalità, quindi oggi più che altro ci sarà da riorganizzare le attività e man mano nei giorni a seguire riprenderanno tutti i lavoratori le normali attività. Questo esercizio provvisorio è di tre mesi, rinnovabile per Arti 3, ma il curatore fallimentare ovviamente ha già un obiettivo ben preciso da quello che abbiamo appreso ieri nell'incontro, che sarà quello di rivalutare al massimo possibile gli stabilimenti, riportando la sostenibilità, cercando addirittura nuove commesse, per questo domani ci sarà anche un incontro nella sede di Castiglioni con la Nuovo Pignone che è il committente principale della OMA, dove si farà appunto la situazione delle commesse in essere e soprattutto si andrà addirittura a ragionare di commesse future, quindi si sta cercando di dare da subito slancio e con unità all'azienda con una nuova commessa che è in ballo, che conosciamo già da tempo e che a questo punto potrebbe essere anche in parte aggiudicata alla OMA. L'obiettivo del curatore è arrivare in brevissimo tempo all'affitto di ramo d'azienda della OMA o addirittura alla cessione, quindi per dare nuovo slancio e andare a valutare quelli che sono stati gli interessamenti delle ultime settimane da diverse aziende, quali la OMAX, la HumanGest e un'altra holding della quale noi non conosciamo l'identità, ma sappiamo che il curatore ci ha detto che c'è anche una terza azienda. Vedremo insomma come andrà a finire la questione OMA, ribartiamo dalla pagina Abruzzo del messaggero perché andiamo a vedere quelle che sono le spine della sanità. Nuovi ospedali congelato il piano che prevede lavori per 300 milioni, l'assessore Veri stoppa la delibera messa a punto da Polucci un anno fa. Caos sull'elisoccorso a Pescara, spesi 100 mila euro per il trasporto. La Marcozzi, Movimento 5 Stelle, in calza sul super ticket, istanza bloccata al Ministero da giugno scorso. In basso Abruzzo sempre meno lavoro, i cervelli proseguono la fuga. Dati in chiaroscuro del rapporto Svimez preoccupa lo spopolamento delle aree interne, ma l'economia cresce. A Pescara un no spinge l'università all'ex cofa, terreno paludoso, cucullo rivela al Senato accademico un divieto del genere civile a costruire dietro via Lepindano. In realtà il parere sarebbe legato all'esigenza di rivedere e rafforzare nel progetto le fondamenta della biblioteca. L'opposizione dal MIBE all'Ateneo, che pasticcio il DUP. In basso, avanti c'è posto, come leggiamo, 50 assunzioni al Comune, chiuse le prove scritte all'Aurum. E poi il cantiere, il cantiere, a red in arrivo l'assessore Mascia, rotatoria finita, traffico più fluido al vecchio ospedale. Il Fla Libri e non solo, Fla Alvia con Veronesi e Laguidone, da oggi a domenica 170 appuntamenti. Si parte alle 16 con Locke al Museo delle Genti, alle 21 al Matta l'attrice pescarese legge l'Arminuta di Donatella di Pietrantonio. A centro pagina, Grandi Chef, Addio Stella, bocciatura per le Paiotte, conferme Michelin per gli altri abruzzesi. Cambiamo pagina, Val Pescara riparte da Carne e Vigneti. Il Cracoma è solo l'ultimo di una lunga serie di emergenze per l'occupazione nella zona, dal caso Merker al Flop Filippi. Il futuro affonda le radici nella campagna, grazie ai post di lavoro offerti da Zaccagnini e dall'azienda Cappola. A centro pagina spaccia davanti ai figli minorenni, in manette una madre a Rancitelli. In basso, io, violentata e picchiata da mio marito, donne nel mirino, due anni di inferno. In tribunale il racconto shock della vittima, tra i testimoni anche la figlia. Il giallo, Kumadin, altro rinvio, imputata, investita. Siamo all'Aquila, super dirigente e staff politici, in comune esplode la polemica. Contestato duramente l'avviso pubblico per trovare un referente e progetti speciali. Bufera sull'assunzione di due persone legate a un consigliere e a un dipendente. Sanità scattate da ieri, le vaccinazioni anti-influenzali e poi depuratore di scoppito. La perizia accusa impianto mai adeguato e scarichi nei fiumi. Tremano gli indagati. Sempre all'Aquila, la difficile rinascita. Come leggiamo, centro pub locali superati dai negozi. Per la prima volta dal terremoto si inverte il rapporto delle attività che hanno scelto di aprire nel cuore della città. Il totale degli esercizi cambia di continuo. Ora a 257. Il vice sindaco Daniele annuncia ulteriori misure di sostegno. Palazzo a rischio sul corso. Iniziati i rilievi geologici. E poi l'omicidio di Roma. Luca, l'abbraccio di Don Serafino. Cambiamo doppia pagina. Eccoci qua. Delitto di Lugia. Due condanne all'ergastolo. In assise la morte dell'anziano disabile picchiato brutalmente da tre rumeni. Deceduto dopo un calvario di quattro mesi. Gli avvocati difensori avevano chiesto la derubricazione in omicidio preterintenzionale. E il minimo della pena. A Sulmona intanto è stato presentato il piano di pedonalizzazione. Megarissa del sabato sera a Tagliacozzo. 15 indagati. I fatti risalgono alla metà di ottobre. Siamo a Chieti. Causa da 500 milioni di Alitalia a Toto. Si va a una transazione. Le parti sono finite davanti al tribunale. La società teatina pagherà la somma a rate. La vicenda è iniziata 5 anni fa dopo alcune dimissioni della holding. Ieri mattino udienza e rinvio per poter perfezionare l'accordo. Il colpo. Ottantenne raggirata in casa da finti agenti. A Lanciano rubava energia elettrica. Arrestata. Frigoriferi e macchine del caffè collegati ad allacci abusivi. Barista finisce ai domiciliari dopo i controlli del NAS. Sanzioni per 15 mila euro. Sequestrati 30 chili di alimenti. Donna assolta per l'occupazione di un alloggio Ater. A Vasto piovono 13 milioni sulle provinciali da riasfaltare. Marsiglio e Pupillo consegnano i lavori. Torto, fondi per scuole e ambiente. A Teramo il comune cerca nuove aree da trasformare in parcheggi. Piano sosta subito difficoltà nel trovare zone urbane in grado di ospitare gli stalli. Il sindaco D'Alberto riqualificheremo gli spazi dedicati già esistenti in città. Charlene, grande attesa per la conferma ufficiale. L'evento dovrebbe essere ad Isola del Gran Sasso. E poi vediamo anche la cronaca. Eroina nascosta nel casco. Coppia finisce in manette. Poi ruba orologi al medico. Tre anni alla giovane ladra. Elezioni, il Tar, siamo a Giulianova, mette fine al ricorso. I giudici amministrativi hanno preso atto della rinuncia di Tribuiani e dell'accettazione del sindaco. Vicenda conclusa. Anomalie nei verbali di chiusura dei seggi. Nessuno potrà più controllare. Costantini, ora avanti con il programma. E poi la notizia che abbiamo visto prima. In prima pagina, l'auto impazzita sfonda la vetrina di un negozio. A Pineto, paura del locale. Nessun ferito. Torniamo a Giulianova. Piazza Buozzi diventa Isola Pedonale. È la prima volta. A Pineto ancora. Allarme furti in casa. Denunciata una coppia di basisti. A Martinsicuro, Panchine e Manganello, fratelli d'Italia, affermazioni violente. Il sindaco Vagnoni, la consigliera, voleva richiamare a una maggiore educazione. Torniamo sulle colonne del centro. Andando a Chieti, anche qui vediamo la caccia ai ladri, anziana derubata da due finti poliziotti. I falsi agenti entrano in casa con la scusa di un'indagine sui furti, si fanno aprire la cassaforte e spariscono con soldi e oro. L'appello del questore. I pensionati non vanno lasciati mai da soli. A Chieti Scalo, il cementificio è nel degrado all'asta per 184 mila euro. Il rudere della Sacci in concordato preventivo al centro di una vendita giudiziaria. Via ha le offerte anche per una cava da 12 ettari a Pretorio e un terreno a rapino. Pilkington, oggi vertice decisivo a Roma. San Salvo, incontro per la cassa integrazione. Castaldi accende la speranza. C'è una possibilità concreta. A Teramo, nel ricordo di Russi, rinasce il master per manager sportivi. L'università, nella primavera del 2020, riattiverà il corso intitolato alla memoria dell'ex preside Sorgi. Le elezioni saranno organizzate in collaborazione con le associazioni locali e con la Federcalcio. In basso, imprenditori interessati a riaprire Beccaceci, Giulianova, la trattativa per l'acquisto del ristorante confermata dal curatore fallimentare Ferrari. A dati, il comitato per l'ospedale. Sul punto nascita servono fatti cittadini, dopo l'annuncio del consigliere regionale di Gian Vittorio. In questi anni tanti proclami. Il sindaco Ferretti, ora mi aspetto, che prenda una posizione chiara. Anche l'assessore Verì. In alto, allarme e furti in quattro denunciati dai carabinieri, controlli a Pineto e Silvi. E poi, in basso, una macchina sfonda la vetrina del bar. Pauro a Pineto, per fortuna, nel piazzale del locale non c'erano clienti. Ai tavoli. Siamo all'Aquila. Le scelte del sindaco. Progetti speciali. Il comune cerca super manager da 130 mila euro. Il bando contestato. Avviso pubblico per assumere a tempo determinato un dirigente fuori dalla dotazione organica. Tra i compiti assegnati nelle manifestazioni di rilevanza nazionale e la promozione del capoluogo. E la polemica a proda in consiglio comunale romano del passo possibile. Con i soldi del nuovo stipendio si sarebbero potuti diminuire altri tagli. A Castel di Sangro, Anziano morì dopo la rapina a due ergastoli. Condannato a dieci anni, il terzo complice che avvertì i carabinieri. La vittima, massacrata di botte, si spense alcuni mesi dopo. Con la cronaca. Anziano esce con l'auto e sparisce. Le centraline telefoniche hanno agganciato il cellulare. A Cagnano, Rissa Tagliacozzo, scazzottata tra giovani in 15 sotto inchiesta. In basso, Giuseppina, compie 104 anni al supermarket. Tanti auguri. Originaria di Montorio, vive a Sulmona, festeggia facendo la spesa. E il personale, giustamente, come vediamo, le regalo. La torta. Davvero tanti, tanti auguri. Andiamo adesso in provincia di Teramo con la città. Il decreto terremoto. Marsiglio chiede altri mille tecnici per il sisma. Il governatore abruzzese e il direttore dell'USRE di Teramo, ieri a Roma, per l'audizione in commissione alla Camera. All'altra parte, ovviamente, siamo a Teramo città. Recuperati due progetti di lizi pubblico-privato, con le parco e con l'atterrato, candidati al bando regionale per i programmi di edilizia residenziale sociale. Attesa ad Isola, la principessa Charlene dovrebbe partecipare all'inaugurazione della Scuola della Croce Rossa, ma è scomparsa anche dal programma ufficiale. Vedremo, vedremo. Rinasce il Master dello Sport all'Università di Teramo. La creatura dell'ex rettore, Luciano Russi, è stato un corso di laurea per 15 anni. E poi, tricolore sbagliato alla festa del 4 novembre, al Monumento dei Caduti, tributati gli onori alla nazione con una corona a colori invertiti rosso, bianco e verde. Allarme cinghiali, allevatori e agricoltori protestano a Roma questa mattina a Montecitorio la manifestazione per denunciare la situazione è diventata ormai insostenibile. Fondi per gli spettacoli nei comuni del cratere, in arrivo circa 290 mila euro dalla regione, grazie all'accordo di programma con il MIBACT. Liceo alla moda, l'idea vibratiana costretta ad emigrare nelle Marche, presentato a Corropoli il progetto per formare professionisti della Sartoria. E poi Roseto modifica la raccolta porta a porta, le linee guida inviate all'Agir, l'idea di eliminare il sistema nelle frazioni e nelle zone periferiche della città. Adesso andiamo alle pagine dello sport, ovviamente partendo dal Pescara e dalla visita in redazione, come vediamo, di Zappa al centro. Io, Zaniolo, l'Inter e il sogno della Serie A. Il terzino, Devo tanto a Spalletti, qui per spiccare il volo e arrivare in alto. Il Brianzolo è cresciuto nel vivaio nero-azzurro, Tifo Milan, però mi ispiro a Maicon, il mio amico Pompetti mi ha consigliato il Delfino. A Milano sono cresciuto con grandi campioni, Under 21, ci punto, sarebbe bello. Mi piacerebbe giocare nella massima serie con i biancazzurri. Playoff, ci proviamo. In basso, le parole di Massimiliano Busellato, in vista della partita di Empoli. Empoli in crisi? Non mi fido, la mezzala carica, in vista della sfida di sabato. Domani la rifinitura a Pescina. Allora andiamo ad ascoltare Massimiliano Busellato, al microfono del nostro Andrea Costantini. Massimiliano Busellato, un Pescara riduce da questo trittico, che nel complesso è stato molto positivo, una sconfitta, ma due vittorie, soprattutto la sensazione che stiate trovando una reale identità di gioco. Penso che concludiamo questa settimana in positivo, sei punti. Probabilmente avremmo potuto fare qualcosa in più, però è inutile rammaricarsi. Adesso guardiamo subito la prossima, che è molto importante, prima della pausa continuare a fare punti. Qualcosa in più vuol dire, soprattutto continuità, continuità di risultati, per un Pescara che è un po' indigesto, circa i pareggi. È quello che manca effettivamente in questo periodo? Abbiamo dei risultati un po' altalenanti, facendo questo tipo di risultati si fatica a trovare un equilibrio. L'importante adesso è cercare di trovare continuità proprio a livello di punti e cercheremo di farlo già da sabato. Questo da cosa dipende? Da mancanza di concentrazione? Sono dei momenti in cui non si riescono a gestire le fasi della partita? Per questo che magari questa alternanza di risultati al momento è evidente. Il pensiero mio personale è che la squadra è quasi totalmente nuova, sono rimasti pochi dell'anno scorso. Per trovare una quadra generale non ci vuole un mese, ma ci vuole molto più tempo. Speriamo di aver trovato abbastanza la quadratura generale, però non è scontato. Bisogna trovare la fiducia anche fuori casa e speriamo, come ho detto prima, di farlo la sabato. Anche dal punto di vista personale alternavi presenze chiaramente per le scelte dell'allenatore all'inizio stagione, ora c'è una continuità di impiego. Ma sì, personalmente sono contento di aver trovato un po' di continuità, poi sta al mister ovviamente decidere, lui che fa le scelte, è pagato per questo. Noi siamo qua per rispettarle, le sue scelte, per condividerle. Ecco, tra i tifosi, anche presso la stampa, tu passi per essere un po' l'equilibratore del gioco del Pescara. Ti rivedi un po' in questa definizione? Me l'hanno detto spesso durante la mia carriera, però io ho sempre detto che i giocatori forti sono quelli che rompono gli equilibri, quindi nel calcio ci sono gli equilibratori, ci sono sempre stati, mi fa piacere comunque essere denominato così. Questa veste tattica, si parla sempre di atteggiamento, la concentrazione, ma questa veste tattica nuova dà un qualcosa in più alla squadra secondo te? Ad oggi direi di sì, poi ovviamente è la continuità che può confermare questa cosa. Non sta a me giudicare se la veste tattica è giusta o no, c'è un allenatore che è qui per questo, quindi non mi inoltro su queste parole. All'equilibratore Massimiliano Busellato è infatti anche il messaggero equilibrio Pescara, se c'è Busellato con il suo ingresso in campo, la formazione è riuscita a realizzare le migliori prestazioni ad Empoli dovremmo metterci qualcosa in più perché i toscani sono pericolosi. Squadra che vince non si cambia, allora vediamo le scelte, Rebus, Ciofani, Zauri, non dovrebbe cambiare nulla dopo la vittoria sul Pisa, si legge in basso per il calcio 5, Acqua e Sapone, agli ottavi di Coppa Italia, il quintetto di Bellarte, Liquida Ancona, Color Max, eliminata dal Cassino. E poi per il volley Ottaviani laureando della SIECO in testa. Allora andiamo in Serie C, Teramo super, gol e vittoria, la rete contestata di Cancellotti batte la Viterbese, il diavolo vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, allora anche in questo caso vediamo il servizio. Il Teramo conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia, lo fa meritatamente vincendo di misura 0-1 sul campo della Viterbese detentrice del titolo. Formazioni sperimentali, diavolo con Gega a sinistra, Cancellotti e Iotti centrali, Lassic Playmaker e Martignago Birlige alle spalle di Cianci. L'avvio sembra essere appannaggio dei parole di casa, ma l'impressione si rivelerà sbagliata, perché la Viterbese, dopo aver fatto capolino in avvio con la scivolata di Volpe al sesto, dopo una sponda di testa e con la percussione di Urso, di fatto esce dal match, sul classato da Teramo, che seppur imbottito di seconde linee gioca un primo tempo magistrale. Al diciottesimo la conclusione di Martignago dopo lo slalom e troppo centrale, molto più pericoloso, Cianci al ventunesimo quando costringe Maraolo ad una deviazione in calcio d'angolo del suo tiro solo parzialmente contrato da Tanasov. E il preludio alla rete del vantaggio che arriva sul tiro susseguente della bandierina, ancora Cianci spizza, Cancellotti controlla e batte l'estremo difensore di casa per lo 0-1. Il diavolo controlla e avrebbe anche un paio di occasioni con Costa Ferreira che tenta il raddoppio con delle conclusioni dalla distanza ma senza trovare il bersaglio grosso. La Fiammata, di fatto l'unica della prima frazione, la Viterbesi ce l'ha al 42esimo quando Antezza da ottima posizione spara fuori un destro liberato dalla percussione di Urso. Nella ripresa Lopez inserisce Tunkerà che al 56esimo è una buona occasione lanciato a rete ma chiuso da Lewandowski al momento della conclusione. E' indubbio che il numero 9 dia qualcosa in più alla prima linea di casa. Tedino concede invece l'ultima mezz'ora a Minelli ma è Martignago ad avere la possibilità di raddoppiare il 63esimo diagonale potente ma alto. La risposta di casa nel destro strozzato proprio di Tunkerà che ignora Besea al centro e manda fuori. Entra anche Tentardini per Giega in un finale nel quale il diavolo gestisce pochi pericoli fino al minuto 86 quando proprio Tentardini sbroglie in qualche modo una mischia furibonda che si crea a pochi passi da Lewandowski e poi ci mette la testa sul piazzato teso di Benzaia che chiude la partita. Il Teramo se ne va agli ottavi di finale ma non c'è tempo per festeggiare. Domenica torna già il campionato e la trasferta col Picerno per fare cinquina di vittorie. E allora vittoria per il Teramo come vediamo anche sulla città Lampo Cancellotti il diavolo va agli ottavi vittoria di misura ai biancorossi grazie alla rete del difensore il Teramo 2 si rivela davvero molto convincente stessa cosa che troviamo anche sul centro il Teramo è indomabile e anche la Viterbese va a K.O. Un gol di Cancellotti stende i laziali campioni in carica la quinta vittoria di fila negli ottavi di finale 27 novembre la squadra di Tedino sfiderà il Siena che ha battuto l'Arezzo l'Aquila intanto volta pagina Marrelli nuovo presidente l'avvocato a capo della società l'obiettivo è coinvolgere imprenditori economicamente solidi notizia questa che come vediamo c'è anche sul messaggero l'Aquila Marrelli è il nuovo presidente del sodalizio Rosso Blu rimaniamo sul centro per andare in serie di Vagnoni e la favola notaresco un mago con i giovani dalla gavetta al sogno appunto notaresco l'allenatore della capolista guida una squadra che ha 17 fuori quota su 25 giocatori in rosa primi con merito dice ma se ci montiamo la testa facciamo fatica dobbiamo giocare spensierati in casa vastesi invece Bolami il presidente chiama i tifosi tutti allo stadio i biglietti a 3 euro per la sfida contro il Tolentino rimaniamo in casa notaresco perché a Matelica nella super sfida di domenica i rosso-blu saranno senza Marcelli che si è fatto male contro l'Agnonese in dubbio Salvatori la buona notizia è che rientra Mele a centro campo per il basket Roseto le parole del capitano Pieric che alza la voce dimostriamo chi siamo il capitano scuote gli Sharks in vista della trasferta di domenica a Monte Granaro è l'ora di far vedere di essere una squadra vera e non un album di figurine le parole di Pieric dopo la pesante sconfitta contro Mantua altro basket andiamo in casa Teramo Lestini non basta di Etica Press KO Teramo cade in casa con Rimini domenica il derby con Chieti questo era il recupero della seconda giornata di campionato e poi pallavolo femminile le atlete 2006-2007 selezione Chieti-Pescara le convocate che trovate ovviamente nel pezzo bene questa era l'ultima notizia per questa mattina io vi ricordo che alle 14 c'è la prima edizione del nostro telegiornale mattino 6 invece come di consueto torna domani puntuale alle ore 8 è tutto buona giornata a Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa di mattino 6. Siamo pronti per andare a leggere le notizie principali che trovate già sui quotidiani in Edigola. In questo giovedì 7 novembre partiamo con le prime pagine, iniziamo con quella del centro edizione di Pescara. Questa è l'apertura, sicurezza in città, maxi vertice, riunione con prefetto e questore dopo il pestaggio di un 17enne. A centro pagina una bella notizia, ovvero un premio che ha conseguito Pescara, premio conseguito a Milano e Pescara, la città italiana con la mobilità più green. E questo ci fa particolarmente piacere. Le tematiche legate alla ricostruzione, Marsiglio a Roma batte i pugni e tutto fermo, dice il presidente della regione. Troppi ritardi, un modello di ricostruzione che non va. A Francavilla, lite in strada, il ristoratore picchiato rischia gravi danni. Dall'altra parte, per la letteratura, le parole di Sandro Veronesi al Fla di Pescara, amo l'Abruzzo di Gionfante, dice lo scrittore. E poi, scendiamo sotto la foto degli imprenditori pescaresi per beccaceci, sono pronti a far ripartire lo storico ristorante di Giulianova, le trattative avviate da giorni. Nei due box che riguardano la regione, a Sininido, 3 milioni ai comuni per accogliere 600 bimbi in più e ancora Pescara, Chieti, Sulmona e Popoli, all'asta, case e palazzi regionali. E poi, per lo sport, andiamo a vedere le parole del giovane Zappa, giocatore del Pescara, io, l'Inter, società dalla quale proviene, e il sogno della Serie A, magari con i colori bianco-azzurri del Pescara. Cambiamo l'edizione del centro, andiamo su quella di Chieti per vedere che cosa cambia. Innanzitutto l'apertura, anziana derubata da finti poliziotti, falsi agenti, a Chieti si fanno aprire la cassaforte e fuggono con oro e soldi. A centro pagina, siamo a Lanciano, Corso Nuovo, via la riparazione delle mattonelle ciarotte su Corso Trento e Trieste, lavori nei punti dove passano i veicoli. Vediamo sotto la foto, siamo in tema di tematiche del lavoro, Pilkington, vertice decisivo a Roma, San Salvo. Oggi l'incontro sulla cassa integrazione Castaldi del Movimento 5 Stelle accende la speranza. Poi nel box siamo a Vasto qui, perché le altre due notizie le abbiamo già lette, e porto senza fondi il sindaco di Vasto Menna contro la regione Abruzzo. Cambiamo di nuova edizione, andiamo su quella di Teramo del centro, questa è l'apertura, crack di Gennaro, venduti 18 stabili. Ieri in Tribunale, la prima affollata asta su due complessi di Tortoreto. Una tragedia sfiorata, siamo a Pineto, macchina sfonda la vetrina di un bar, e questi sono i danni. Per fortuna lievi, molto lievi, di quest'automobile che ha sfondato la vetrina del bar. Poi sotto la foto, un master per i manager sportivi Teramo all'università, l'annuncio nella giornata dedicata al ricordo dell'ex rettore Luciano Russi. Per lo sport, Coppa Italia Serie C, Cancellotti gol, il Teramo vince e va agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ovviamente di Lega Pro, vittoria di misura sul Viterbese, l'edizione aquilana del centro, questa è l'apertura, il comune cerca il supermanager. L'incarico da 130 mila euro per progetti speciali ed è scontro. La foto è dedicata allo sport e all'Aquila Calcio, perché l'Aquila volta pagina, Marrelli è il nuovo presidente. Questa è una foto di gruppo per la nuova dirigenza della società Rosso Blu, che adesso cerca dei finanziatori. Sapete che l'Aquila sta cercando di risalire quanto più velocemente possibile le categorie calcistiche. Sempre all'Aquila, nelle cronache, vediamo, Anziano esce in macchina e scompare l'uomo, 84 anni, benito del re, residente all'Aquila. Da lunedì sera non si hanno più sue notizie, il tempo passa e l'apprensione aumenta. A Tagliacozzo, Megalissa tra giovani in 15 finiscono sotto inchiesta, sotto la foto invece morì dopo la rapina due ergastoli. Siamo a Castel di Sangro, 10 anni al complice che chiamò i Carabinieri. I fatti risalgono al 2017. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulle colonne del messaggero. Questa è l'apertura. Toto all'Italia, c'è l'accordo, indirittura d'arrivo la transazione tra gli ex proprietari di Airone e la compagnia di Bandiera. In ballo, 500 milioni chiesti dalla società aerea. Il gruppo abruzzese pagherà a rate molto meno. Il report, nel box, posti di lavoro in calo, sempre più in calo, continua la fuga dei cervelli. In alto, Lanciano a lacci abusivi per fare i caffè, la barista finisce in manette. Il festival, FLA, la Maratona della Cultura, ben 170 spettacoli in quattro giorni. E poi, Pescara, il centro di gravità, ruota intorno a Massimiliano Busellato. Di spalla la ricostruzione, Marsiglio chiede al governo mille assunzioni. Scendiamo in pagina, le questioni legate alla sanità, slitta anche l'abolizione dei super ticket, bloccato il piano dei nuovi ospedali. Dall'assessore regionale Nicoletta Veri, il sostanziale stop alla costruzione di nuovi ospedali. Avezzano, Lanciano, Vasto, Penne, incertezza sull'abolizione del super ticket. Per la cronaca, sesso dopo le botte, donna accusa di stupro il marito, lei lo avrebbe sposato nonostante le violenze, già in una circostanza aveva ritirato la querela. In questione di notizie giudiziaria, macchina in veste imputata prima della deposizione, Daniela Lorusso, il figlio accusato di tentato omicidio ai danni dell'ex marito della donna, Lorusso, ieri sarebbe stata investita da un'auto prima di deporre. A Casteldisangro, ritroviamo la notizia, rapinato e ucciso, due all'ergastolo. Cambiamo ancora, andiamo in provincia di Teramo, sulla prima pagina del quotidiano La Città, con le parole del Presidente della Regione Marsiglio. Mille tecnici per il sisma, la richiesta del Governatore abruzzese nell'audizione alla Camera sul decreto terremoto. In alto, il Liceo della Moda emigra nelle Marche, l'idea era nata a Corropoli. E poi scendiamo la GAF tricolore, vediamo di che cosa si tratta, colori invertiti sulla corona del 4 novembre. Vedete che i colori effettivamente, in un caso solo però, sono invertiti, nell'altro sono giusti nel tricolore della nostra bandiera. Croce Rossa, la principessa Charlene, attesa a Isola del Gran Sasso per una nuova scuola. Roseto, porta a porta da cambiare nelle frazioni. Confindustria, Marco Fracassi, puntiamo su Zess e sul dialogo con l'Europa. A Giulianova, cannone alla rotatoria, incontro decisivo. In basso, per il calcio, il Teramo agli ottavi di Coppa Italia, con un lampo di Cancellotti a Viterbo. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ovviamente è la questione legata all'Ilva a tenere banco, le trattative con Arcelor Mittal. Ilva, questo è il Corriere della Sera, lo stop di Conte a Mittal, il premier richiesta di 5.000 esuberi inaccettabile. Due giorni per ripensarci, il governo apre sullo scudo penale, ma i 5 Stelle si dividono, l'azienda avvia le procedure per l'avvio. A centropagina, vediamo insulti e minacce, decisa la scorta per Liliana Segre dopo lo striscione contro la senatrice. Vediamo la doppia foto che riguarda lo sport, Ancelotti e Conte ad alta tensione, gli allenatori che sfidano le società. In Champions la Juve vince e si qualifica, l'Atalanta pareggia invece con il Manchester City. La Repubblica, anche qui la questione Ilva a tenere banco, fumata nera per l'Ilva e anche per il governo, maggioranza divisa a Palazzo Chigi. Mittal chiede lo scudo penale e 5.000 esuberi. Non ci fidiamo più, Conte disponibile all'immunità, la loro è una pretesa inaccettabile, dobbiamo tutelare operai e famiglie, ma spunta l'ipotesi che l'azienda torni allo Stato. E poi la foto, Fabiola, regina della scienza, Fabiola Gianotti, secondo mandato al CERN non era mai accaduto. Cambiamo quotidiano, il messaggero, ovviamente la prima pagina nazionale, Exilva, il governo si spacca, fumata nera al vertice con Arcelor Mittal, scontro su scudo penale e 5.000 esuberi, PD e Renziani per l'immunità, Conte e 5 stelle contrari, Idem, rischio crisi, scioperi a Taranto. La notizia di cronaca, la rapina sventata dai romani è bastata una mossa di karate, il caso Cinecittà e l'escalation di colpi nei negozi, Raggi chiede l'esercito. E poi questa bella notizia dal lutto per la sorella Sceffa, la prima stella Michelin, Davide Puleio, Sceff romano stellato, solo 30 anni per lui. Il fatto quotidiano, sempre questione legata all'Ilva, Mittal provoca, si sapeva dal 2017 che era un blef, il rapporto dei commissari Ilva che boccia il piano degli indiani, avallato da Calenda, in alto processo trattativa, Berlusconi scarica Dell'Utri, si avvale della facoltà, non risponde, trattativa, come vedete, Stato mafia, Camorra, i boss si dissociano, così niente ergastolo dopo le sentenze di Cedu e consulta. Il mattino, anche qui, Ilva Mittal tira dritto, il governo si spacca, gli indiani confermano la chiusura, scudo penale, PD e Renzi per il sì, contrarie 5 Stelle e il Premier. Ovviamente siamo sul mattino, quindi questioni che riguardano soprattutto la città di Napoli, la squadra del Napoli, di Napoli e tutti contro tutti, De Laurentiis dice pagheranno dopo l'ammutinamento, la società avvia le cause contro i calciatori, Mertens, Insigne, Allan, Cajéhon e Coulibaly hanno guidato la rivolta e sono praticamente i big di quella squadra, ovvero della squadra partenopea. Il tempo, l'Ilva e il Titanic di Conte e Company, il naufragio del governo, il Premier torna avvocato e prova a fare la zecca Garbugli contro Arcelor Mittal, che se ne frega su Taranto, ha giocato con leggerezza la maggioranza e ora il gruppo se ne va per la sua strada. La foto, lacrime e il rombo delle moto per l'ultimo saluto a Luca, commozione e chiesa gremita ai funerali del ragazzo ucciso alla Caffarella dai tabulati, non emergono contatti tra il personal trainer e la rete di pusher. La stampa Mittal pretende 5 mila esuberi, ex Silva, vertice a Palazzo Chigi, Conte lo scude un falso problema, poi ci hanno detto cosa volevano e muro contro muro con l'esecutivo che sfiora la rottura, il Premier chiede tempo per ricucire. E poi per quanto riguarda le start-up, il primato è del Politecnico di Torino, che è stato premiato in Qatar come miglior incubatore proprio di start-up. Unicredit vende la quota e duello per Mediobanca sullo sfondo, lo scontro per il futuro, di Generali. Il manifesto levata di scudi, questa è l'apertura, ovviamente scudo totale sull'inquinamento dell'ex Silva, diminuzione della produzione di acciaio e 5 mila esuberi. Arcelor Mittal alza la posta e pone pesantissime condizioni per restare in Italia. Conte proposta inaccettabile, allarme rosso, oggi i sindacati a Palazzo Chigi, Fiume e Wilm, domani sciopero di 24 ore. Sulla questione migranti, il Ministro dell'Interno Lamorgese difende l'accordo con la Libia, alla Camera, all'informativa della Ministra dell'Interno sul memorandum. Libero, Di Maio stermina i lavoratori, pure Zingaretti non lo tollera più, quanto si aspetta per mandarlo via. Via, Gigino annunciò risolto la crisi, il va in tre mesi, quelli di prima in sei anni non erano stati capaci. Balle, siamo al disastro con reddito di cittadinanza, aboliamo la povertà, altre balle. La sede Wirpun di Napoli non chiuderà, invece chiude. Gente del genere, dice Libero, ci manda in rovina. La foto, l'unica cosa bella di Conte è la suocera, e la svedese Eva Aulin, ex attrice e cantante. Insomma, gusti che riguardano per nulla la politica, chiaramente. Il secolo.it, ecco la decrescita. Arcelor Mittal saluta l'Italia, ex silva, addio. In 14.000 senza lavoro, crolla il PIL e Conte sotto. In primo piano, migranti illegali e finti gay. Meloni rivela la truffa, Bibiano, PD minimizza, è solo un raffreddore. E poi, Ilva, maggioranza divisa. Bellanova attacca Lezzi. Il sole 24 ore, doppia apertura. Unicredit vende tutta la quota, 8,4% in Mediobanca. E poi, ex silva, governo e Arcelor trattano. Ma il Movimento 5 Stelle fa muro. Queste sono le grandi partite dell'economia. Doppio riassetto tra finanza, potere e politica, come spesso accade. In basso, infrastruttura 10 miliardi in più, ma in cassa solo 420 milioni, investimenti, stanziamenti di fondi che si gonfiano. Ma le risorse effettive che non decollano. Andiamo avanti, parlando di quotidiani di sport, con i quotidiani sportivi. Ieri sera, serata di Champions, molto bene la Juventus che vince 2-1. Costa d'oro, perché Douglas Costa entra e al 93esimo promuove la Juve agli ottavi di finale sulla Lokomotiv Mosca 2-1. I bianconeri vincono e conquistano gli ottavi con due turni di anticipo. Massarri non è soddisfatto. Possiamo giocare meglio. Di spalla, come vediamo, le parole di Immobile, esclusivo, altri 100 gol con la Lazio. Voglio restare qui a vita e fare la Champions in bianco-celeste. Saliamo in alto, chi invece ha giocato martedì? Napoli, pieni poteri ad Ancelotti, comunicato del club dopo la ribellione, sanzione ai giocatori sul ritiro. Decide l'allenatore, lo scontro a fine partita. E poi De Paul e Kwame per placare Conte dopo la rimonta subita dall'Inter a Dortmund. Unde lo sfogo del tecnico, la società pronta a correre ai ripari sul mercato di gennaio. In basso l'Atalanta, primo punto contro il Manchester City, poi peraltro. Icardi esalta Parigi, Gasperini ferma il City di Guardiola 1-1, Maurito ancora in gollo. Il PSG batte il Bruges e si qualifica. Avanti anche il Bayern con il 2-0 all'Olimpia Cos. E poi Fonseca non cambia la Roma. Oggi, ovviamente, oltre alla Lazio che gioca con il Celtic alle 18.55, c'è anche la Roma che va a far visita al Borussia Mönchengladbach. Con Fonseca che non cambia. Dzeko è al 100%, panchina invece per Alessandro Florenzi. La Gazzetta dello Sport, Locomotiva Juve. Magia di Douglas Costa nel finale. Sarri è già agli ottavi, bianconeri qualificati col 2-1 a Mosca. Gol lampo di Aaron Ramsey. I russi replicano subito per i campioni d'Italia. È una serata no. Ronaldo sostituito decide un guizzo del brasiliano che vale il passaggio del turno. La Dea invece, l'Atalanta ci crede perché fa paura al City di Guardiola. Con due vittorie può sperare. In alto invece, alta tensione Inter e Napoli. Conte, il club ci resta male. Rinforzi a gennaio, ok di Marotta, ma non è piaciuto. Lo sfogo dell'allenatore pesano ancora gli affari. Saltati in estate e in casa Napoli, De Laurentiis denuncia gli ammutinati in signe e compagni nel mirino. Rottura con Ancelotti. De Laurentiis vuole citare per danni tutti dal capitano a Mertens. E anche il tecnico rischia. In alto la bella notizia perché il nostro Yannick Sinner da impazzire. E nei top 4, nella Next Generation, il nuovo fenomeno del tennis italiano. Yannick Sinner, numero 95 del mondo. Battuto lo svedese Imer. Formula 1, Hamilton senza limiti. Supererà Schumacher. I grandi ex giudicano il Sevolterre in Formula 1. E poi in basso invece vediamo l'Europa League di oggi. Roma con Supergeco per la Lazio invece è l'ultima chiamata. Sfide contro Borussia Mönchengladbach e Celtic. In basso il Milan carica Benasser con la Juve. Domenica sera possiamo vincere. Intervista al centrocampista Rossonero. Tutto Sport, Douglas Mosca con un fortunato accostamento nel titolo. Settimo 2-1 della stagione per la Juventus. Ancora una vittoria dopo il novantesimo. I bianconeri liquidano la locomotive e conquistano la qualificazione con due turni di anticipo. Subito il signor Ramsey. Nel finale entra Douglas Costa e firma il gol decisivo. L'Atletico cade a Leverkusen. Inter e Napoli robe da pazzi. Lo sfogo di Conte che in guaia in nera azzurri. Scuota i nera azzurri. L'ammutinamento azzurro invece in guaia Ancelotti. In casa Toro cosa Iago Falche? I tifosi del Toro si domandano come mai ne abbia sempre una. K.O. per un mese. In casa Milan crunice esclusivo. Milan con la Juve per sbloccarci. E in alto invece l'Atalanta. Dea sei grande. Pep che figura. L'Atalanta rimonta il Manchester City che nel finale resta senza portiere espulso. Guardiola fa perdere dieci minuti prima della sostituzione. Primo storico punto. E i nera azzurri restano ancora in corsa. Bene. Chiudiamo qui questa prima parte di mattino sei. Adesso le previsioni del tempo. La pubblicità. Poi torniamo insieme per sfogliare i quotidiani di casa nostra. La pubblicità. Questa è